Allora, questa volta vi facciamo vedere come si tolgono i scinger, del pistone e le pinzette come vanno usate. Io purtroppo ormai ci vedo quasi in cazzo, quindi faccio quello che posso ragazzi. Con la pinzetta prendete la G, adesso i geni hanno avuto l'idea di farle anche diverse e quindi c'è da tirare un sacco di accidenti per non dire altro. Fate una leggera pressione e il scinger viene fuori. Fino a qua ci siamo. Poi, vabbè, questo qua l'avevate già visto un'altra volta, lo mettete... e poi dopo togliete. Noi adesso, cosa l'abbiamo già fatto vedere, torniamo a rimettere a posto e si riprende di nuovo il scinger. E questo è stato messo di nuovo. Mi raccomando, usate delle pinzette appropriate, non quelle per le ciglie, perché se no andate a scheggiare tutto il pistone. E questo filmato è finito.